Maria Grazia Di Scala, consigliere regionale di Forza Italia, buonasera Avvocato, lei ha definito la situazione di Villa Mercede un'epidemia colposa, penso che condivide le parole del sindaco del Deo annunciate quest'oggi in conferenza stampa, buonasera a lei. Buonasera, buonasera Vincenzo, buonasera a tutti. Sì, certo che le condivido perché anche io sono in sorta, ma non da adesso, nei confronti di una gestione che reputo assolutamente superficiale da parte dell'Asla Napoli II e del direttore generale d'amore, abituato a fare lunghi percorsi sui tapperi rossi delle passerelle quando viene ad Ischia e a fuggire davanti alle sue responsabilità. Ho ascoltato la mia insurrezione, vi è stata già all'indomani, anzi nella giornata stessa del trasferimento della paziente di Pozzoli perché era prevedibile che sarebbe successo quello che poi è accaduto, vista appunto la superficialità della gestione di questo caso, la violazione dell'ordinanza, come ha ricordato Francesco Del Deo, della permanenza in isolamento per quattordici giorni. Questo è accaduto. Il lanciafiamme De Luca lo deve utilizzare nei confronti di un direttore generale che ancora una volta sta dimostrando la sua insipienza, altro che feste di laurea e pizze portate a domicilio. Io perciò sto insistendo e ho chiesto immediatamente la revoca degli incarichi dati ad amore e De Luca è bene a conoscenza di questa circostanza perché io stessa gli ho scritto, gli sono state inviate note che tireremo fuori in aula non appena avrà la compiacenza di convocarci anche in videoconferenza perché vanno messi davanti alle proprie responsabilità. Concordo per carità anche con il sindaco Caruso quando dice che non è questo il momento delle polemiche, però ritengo anche che in questa Italia, in questa campagna, se non si sbattono i pugni sul tavolo e se non si fa sentire la propria voce forte ma soprattutto unitaria da parte dei cinque sindaci, del commissario prefettizio e di tutte le forze politiche presenti sull'isola noi risultati non li otterremo. Allora la gestione è stata superficiale, è stata alla Carlona e questo va fatto valere sin da subito perché vanno messi davanti alle proprie responsabilità per affrontare la gestione futura dalla quale siamo ben lungi dall'uscire perché qua si parla di fase 2 ma ma come si fa ad affrontare una fase 2 di apertura con un maxi focolaio che si è creato in questa Villa Mercedes? Villa Mercedes poi che va anche detto un plauso agli operatori, a quelli che sono rimasti a lavorare, che sono stati costretti a restare a lavorare per un pagamento di miseri stipendi con arretrati, hanno ancora tre mensilità da percepire e gli stipendi attuali li vengono percepiti, li vengono corrisposti a 100 e a 200 euro alla volta e questo è vergognoso perché poi effettivamente concordo con Francesco D'Aldeo, questa povera gente si deve portare pure il contagio a casa e devono pure stare zitti, è impossibile anche un atto di ribellione da parte loro perché è chiaro si perde il posto di lavoro. Avvocato l'impressione che ci sia stata quella superficialità che c'era stata non tanto nella gestione dell'ospedale Rizzoli che oggettivamente non ha mai sofferto situazioni critiche particolari, il problema sull'isola lo abbiamo avuto nella gestione da parte dell'ASD dei casi in isolamento domiciliare, dei tamponi che non venivano fatti, una situazione molto simile a quella di Villa Mercede che si aggrava però perché lì c'è un contatto tra un numero di persone molto ampio. La domanda è questa, perché secondo lei, dato che lei ha scritto, Del Deo ha scritto, i sindaci avevano scritto, De Luca non si è mai espresso sulla situazione non tanto anche solo dell'isola ma proprio della schiana, quindi situazione ASL e Napoli 2 Nord, quindi anche area flegrea. Ma evidentemente perché non gli è arrivato un documento unitario, perché è impossibile che continui a dire che qui va tutto bene, va tutto bene un corno. Quindi il documento deve essere forte, deve essere un grido di dolore e di aiuto e di attenzione nei confronti della nostra isola. Se arrivano però dei documenti sparsi, scollegati tra di loro, non meritano alcuna considerazione perché so come ragionano lì. Allora l'attenzione che deve esserci è innanzitutto quella mediatica e quindi grazie anche a voi che concedete spazio a tutti quanti noi per esprimere i nostri pensieri, perché questi canali sono visti e sono seguiti, così come la stampa campana, che di questo caso non parla, quindi mi riferisco ovviamente non ai giornali locali che ne parlano tanto, ma a quelli campani. Quindi l'attenzione va assolutamente sollevata sul caso della gestione della schiana. Ci sono state già delle denunce alla Procura della Repubblica per il caso della schiana, per come è stato gestito dai sindacati, addirittura dei medici e dei lavoratori. Quindi una pecca c'è, delle responsabilità ci sono e vanno accertate. Si deve partire adesso, ripeto, con un grido forte da parte di tutti quanti, perché d'amore non può scaricare le responsabilità sui sindaci e sui cittadini, indirettamente quindi sui sindaci che vengono accusati di non vigilare. Quindi un empito d'orgoglio provenga forte da tutti quanti noi.